Ben ritrovati amici di Padre Pio TV, oggi Spazio Salute sta per così dire sul pezzo, perché parliamo di un argomento, parliamo dell'incontinenza urinaria, proprio alla vigilia della tredicesima giornata nazionale sull'incontinenza che è stata prevista per domani, ma c'è un altro anniversario che però è un po' più ampio nel tempo, perché in questo 2018 ricorrono i 25 anni dell'inizio dell'attività dell'Urologia Pediatrica di Casa Sollievo e fin dall'inizio di questa attività il responsabile di questa unità di Urologia Pediatrica di Casa Sollievo è il nostro ospite in studio di questa sera, il dottor Giuseppe Cretì, bentornato fra noi. Grazie direttore, certamente mi ha fatto sentire un po' vecchio, 25 anni sono passati, ma è bello ritrovarsi. E quando vecchiai è sinonimo di esperienza diciamo che è anche benvenuta, visto che comunque i capelli bianchi non ce li toglie nessuno. Allora cominciamo come sempre con l'ABC, quando parliamo di incontinenza che cosa vogliamo definire? Entriamo subito nell'argomento dando una definizione molto sintetica, comprensibile e breve che è il frutto invece di un processo di elaborazione che è durato tantissimi anni da parte di organismi scientifici dell'International Continent Society. Bene, che cos'è appunto l'incontinenza urinaria? E qualsiasi perdita involontaria di urina? Punto. Quindi questa è l'incontinenza urinaria. Noi però in questa puntata di Spazio Salute ci concentreremo sulla incontinenza urinaria sull'enuresi notturna, che poi spiegheremo anche che cos'è, in età pediatrica. Eh beh sì, certamente sì. Allora, che cos'è l'enuresi notturna e perché dobbiamo porre l'attenzione soprattutto sull'età pediatrica? Beh intanto ecco, la premessa importante è parlare di incontinenza urinaria ad ogni livello, ad ogni età è qualcosa realmente di importante, è un fenomeno sociale di grossa portata, interessa in età pediatrica più del 10% della popolazione pediatrica. Ah quindi è molto diffuso. In questa slide, ecco, mi sono permesso di riassumere dei numeri. Ecco sì. Cioè l'incontinenza urinaria, 260 milioni appunto di persone ne sono affette in tutto il mondo, più di 36 milioni di persone in Europa, in Italia abbiamo appunto più di 6 milioni di persone. Ecco domani si celebra questa giornata dedicata particolarmente alle donne. Ci sono 3 milioni di donne affette da incontinenza urinaria, ma il 10% di pazienti sono pediatrici con una prevalenza che oscilla dall'1,5 al 12% fino ai 13 anni per poi decrescere nell'età successive. Quindi è un fenomeno veramente importante dal punto della sua rilevanza epidemiologica che necessita di continuo appunto di richiami perché nonostante se ne parli ad ogni livello c'è comunque ancora molta patologia sommersa. Quando dico questo significa che parlare… Non si va dal medico, ci si vergogna? No, guarda direttore, il problema è questo, che per tanti anni è stato un fenomeno culturalmente sottovalutato sia dalla classe medica che dalla società stessa. Si trattava di comunque l'incontinenza urinaria specie in età pediatriche di un fenomeno marginale, in bambini con un tratto psicogeno particolare destinato a risolversi nell'età successiva, senza capire che quel bambino da quel momento, dai 5 anni in poi, comincia un suo percorso di disagio, di sofferenza, di inadeguatezza e naturalmente tutto questo ha delle ricadute sulla vita futura di questo individuo. Quindi parliamo del bambino, ma se parliamo del bambino dobbiamo pensare anche al bambino che non guarisce in età pediatrica sarà un adulto malato e di qui l'importanza e la rilevanza del problema, di parlare di incontinenza urinaria, di sintomi del basso tratto urinario e per l'età pediatrica l'enuresi notturna. Ecco, che cos'è l'enuresi notturna? Allora, l'enuresi notturna, entraremo poi nel vivo nella classificazione dell'incontinenza, è una forma di incontinenza, appunto, intermittente, cioè non è l'incontinenza urinaria continua che si concretizza nell'ambizione notturna, durante il sonno, cioè il bambino fa la pipì a letto, forse tradotto in questi termini è comprensibile da tutti, è la pipì a letto del bambino. Un bambino in età superiore a 5 anni ha già acquisito per l'80% dei casi il suo meccanismo di controllo sfinterico notturno, c'è un 20% circa di bambini che faticano, hanno un ritardo nell'acquisizione di questo controllo, nella maturazione di quei meccanismi che presiedono alla continenza notturna. E un bambino in euretico, un bambino in euretico su due non viene diagnosticato, c'è un 50% di bambini, giovani e adolescenti che non arrivano a delle cure mediche, ecco perché è un fenomeno ancora parzialmente sommerso per sottovalutazione, per una scalza cultura medica ancora in alcune fasce, in cui si dice che questo è un problema transitorio destinato a risolversi, come si risolve, è veramente drammatico in quell'1-2% di pazienti adulti che sono euretici. Quindi mi pare di capire, dalla definizione di enuresi notturna, che è una delle varie forme di incontinenza urinaria e che ci sono tanti tipi di incontinenza. Sì, io direi che possiamo schematicamente anche per i nostri telespettatori dire che esistono tre forme di incontinenza urinaria e anche questa è una classificazione, vedete nella slide, che è stata proposta dall'International Continence Society e ha distinto tre forme in senso fisiopatologico, tre forme di incontinenza. Un'incontinenza strutturale, per semplificarla, sono quelle incontinenze da difetti anatomici, da grave malformazioni dell'apparato urinario che sconvolgono anatomicamente e funzionalmente il basso tratto urinario. Cito per esempio una per tutte, l'estrofia della pescica, della culaga, che sono delle malformazioni complesse, la valvole dell'urotroposteriore, cioè lì dove non si è potuto formare anatomicamente tutto ciò che presiede alla continenza. Quindi questi bambini, questi soggetti che potrebbero interranno adulti, hanno un'incontinenza urinaria continua. L'incontinenza neurogena, e qui apro una piccola parentesi, direttore, perché mi autoinvito per trattare questa forma, una delle prossime puntate di Spazio Salute, perché parliamo di difetti congeniti o acquisiti del sistema nervoso centrale periferico che presiedono all'innervazione e alla funzione del basso tratto urinario. Cito per tutte, ecco perché ne parlavo prima, la malformazione conosciuta come spina bifida, la mancata chiusura del canale midollare, che ha un'incidenza di 1 ogni 1.500 nati vivi, quindi non è una malattia definita rara, anche con l'ingresso di extracomunitari sta aumentando l'incidenza, specialmente delle forme occulte, non visibili all'esterno, ma è una patologia dalla quale non si guarisce e che dà dei problemi sfinterici importanti, l'incontinenza urinaria e appunto problemi motori, sensitivi, ortopedici, quindi neurochirurgici e questi pazienti hanno la necessità di essere assistiti in maniera globale, cioè noi a San Giovanni Rotondo, con l'ospedale Caso Sollievo della Sofferenza, abbiamo realizzato un progetto che mi fa piacere ricordare anche per la memoria di un carissimo amico che non c'è più, Leopoldo Zelante, abbiamo costruito questo progetto dieci anni fa di avere un gruppo multidisciplinare che si occupa dei bisogni globali per quello che possiamo offrire, quindi con competenze multidisciplinari appunto a fare fronte collegialmente alle loro richieste di assistenza ed è un'assistenza che inizia in età pediatrica, vira verso l'età adulta, per loro c'è un transitional care che noi abbiamo organizzato con questo servizio ambulatoriale appunto qui al nostro ospedale, quindi questa è una forma particolare di incontinenza urinaria dove il difetto è neurogeno, ci sono appunto paralisi cerebrali infantili, ci sono quelle patologie infettive, encefalitimi, radicolo nevriti, tutto ciò che va a alterare il meccanismo di riempimento, svuotamento e di controllo sfinterico dal punto di vista neurologico. E poi c'è la terza classe. Oggi invece vorrei parlare appunto di un qualcosa che nella pratica clinica urologica pediatrica di tutti i giorni sta emergendo sempre di più la incontinenza funzionale, cioè sono bambini che non hanno appunto una riconosciuta patologia neurogena della fase di riempimento e svuotamento vescicale, ma che hanno dei sintomi allarmanti che allarmano gli stessi bambini inizialmente, le loro famiglie che richiedono anche loro un'assistenza in particolare. Possiamo cominciare a dire, ecco, dal paziente tipo il bambino che arriva in ambulatorio perché mamma si è accorta, dice guardi questo bambino sta cambiando in maniera radicale, va al bagno almeno 10-15 volte al giorno, scappa continuamente ma non riesce nemmeno ad arrivare al bagno e già perde appunto la pipì. Che cosa è successo dottore? Beh, quindi questo è uno dei luts, dei sintomi del basso tratto urinario che richiede l'attenzione e non può essere soltanto liquidata dicendo vabbè non è niente, facciamo le samorine e poi appunto vedrà che passerà. No, merita un suo percorso diagnostico e la successiva terapia. Certo, quindi diciamo che la diagnosi e la terapia ci sono ma sulle cause si è arrivati a capire o… Sì, ecco, sulle cause… Perché le altre due hanno cause individuali. Le altre due, ecco, questo è l'argomento affascinante perché l'apparato urinario, specialmente il basso tratto urinario, configura veramente un terzo cervello, cioè la complessità della funzione dei mediatori che governano i meccanismi sia di riempimento che di svuotamento, di rilasciamento sfinterico. Li conosciamo in gran parte ma non tutti. affermare che è una disfunzione non neurogena quando i sintomi, i segni manifestati propendono per un problema di tipo neurogeno significa ammettere che realmente non abbiamo riconosciuto con i mezzi diagnostici a nostra disposizione una causa o neurogena ma di fatto sembrerebbe che c'è qualcosa. Nella stragrande maggioranza dei casi con le terapie, gli urofarmici, terapie uro-reabilitative riusciamo a portarli veramente, accompagnarli fino alla guarigione completa. Però non è un percorso semplice, è un percorso chiaramente che può essere anche frustrante, faticoso, quando non c'è compliance da parte dei genitori, il bambino viene abbandonato a se stesso, ecco che i tempi si prolungano e quel bambino sarà appunto l'adulto malato di domani, che sarà misconosciuto alla stragrande maggioranza degli specialisti perché quel bambino se racconterà la sua storia avrà qualche garanzia in più di non essere appunto poi misconosciuto anche ad adulto. A Spazio Salute stiamo parlando di incontinenza urinaria ed enuresi notturne in età pediatrica con il dottor Giuseppe Cretì che è responsabile dell'unità di urologia pediatrica di Casa Solievo della Sofferenza che abbiamo già detto ha compiuto 25 anni e dal quale abbiamo capito che parlando un po' del problema nei bambini questo può creare, se non abbiamo inteso male, anche dei disagi di carattere psicologico. E su questo punto è importante fare una precisazione, guardi che negli anni 40 l'enuresi notturna veniva interpretata come un disturbo squisitamente psicogeno in bambini con dei tratti psichiatrici per cui si parlava appunto ecco questo bambino ha dei problemi psicologici ecco qui l'enuresi, ci sono voluti veramente 30 anni con le moderne acquisizioni in termini di fisiopatologia dell'enuresi notturna, ne parleremo subito, per rivaltare appunto questa posizione, cioè non è appunto l'enuresi notturna che produce problemi, diciamo non è il problema psicologico che produce l'enuresi notturna ma è l'enuresi e questo lo vediamo chiaramente in pazienti appunto che ormai adolescenti vanno verso l'edà adulta, quel 2-3% di giovani adolescenti adulti che non risolvono il problema dell'enuresi, beh loro hanno bisogno di un accompagnamento e di un supporto psicoterapico importante e noi offriamo anche questo. E proprio per fare un focus su questo aspetto, quello psicologico, abbiamo un contributo esterno, un contributo della dottoressa Giuliana Placentino che è psicologa proprio in servizio presso casa sollievo della sofferenza, ascoltiamo. L'incontinenza urinaria nel bambino può causargli anche delle problematiche di tipo psicologico come ad esempio la scarsa fiducia in se stessi, la bassa autostima, la difficoltà a gestire il problema. Tutte queste problematiche possono passare alla risoluzione del problema ma ciò non significa che non è importante prendersene cura poiché tale difficoltà tocca tutta la famiglia, ad esempio causando risvegli notturni non solo nel bambino ma anche nei genitori che poi si trovano ad affrontare tutte le notti questi movimenti, cambiare il letto, rassicurare il bambino e quant'altro. È molto importante prendersi cura dal punto di vista medico e psicologico poiché le implicazioni sono anche di altro genere, ad esempio di tipo sociale il bambino vive grandi limitazioni, non può frequentare la casa di alcuni amichetti, può avere difficoltà da andare in gita e qualora dovesse farlo magari essere anche vittima di bullismo. Pertanto è importante affrontare l'argomento e dare ai genitori anche dei piccoli suggerimenti che possono aiutare ad affrontare questa problematica. Per quanto riguarda il bambino è fondamentale portarlo alla consapevolezza del problema che ha e rassicurarlo facendogli capire che non è solo è l'unico che ha avuto questo problema, che sarà sicuramente trattabile e soprattutto lavorando sui sensi di colpa e sul senso di imbarazzo che il bambino prova. È molto importante l'approccio multidisciplinare per questa problematica, come è stato visto anche per altri ambulatori specialistici come per esempio quello della spina bifida dove le problematiche urinarie dei bambini sono molto importanti e il confronto tra le varie professionalità ha prodotto dei risultati che sono in crescita esponenziale. Ad esempio questi ragazzi che sono affetti da questa grave patologia, seguiti anche non in ambito ambulatoriale ma all'esterno per campi estivi o campi invernali sono stati diciamo lanciati verso una riabilitazione completamente diversa attraverso per esempio lo sport e questo è stato possibile solo integrando le varie professionalità e anche avere questo approccio, questo affacciarsi al sociale e alle associazioni che danno supporto in senso lato. Abbiamo detto che l'enuresi notturna è una dei tipi delle incontinenze urinarie pediatriche ma esiste un solo tipo di enuresi notturna o anche queste possono essere classificate? Sì, in maniera molto schematica distinguiamo un'enuresi notturna monosintomatica e un'enuresi notturna non monosintomatica. Cosa significa? L'enuresi notturna abbiamo detto che interessa bambini in età superiore a 5 anni. È una incontinenza intermittente, non è continua, non c'è un difetto strutturale. Durante il giorno questi bambini mingono normalmente appunto e la notte durante lo stato di incoscienza del sonno appunto che c'è l'evento enuretico. quindi il sonno, il sonno ci dice che se avviene durante il sonno sono bambini neurologicamente sani, perché appunto ad esclusione dell'evento sonno questi bambini sono assolutamente normali. Nell'enuresi notturna non monosintomatica invece si accompagnano dei sintomi del basso tratturinario diurno. Entrano in gioco quei sintomi di cui parlavo inizialmente, cioè la la frequenza, l'urgenza, l'incontinenza da urgenza, la minzione disfunzionale, il voiding postponement, cioè bambini che differiscono la minzione perché sono occupati a fare ben altro. Questa è una attitudine che naturalmente è patologica che comporta poi gravi alterazioni. Se questo atteggiamento viene perpetrato nel tempo, appunto, che cosa succede? Succede che questo bambino comincia a sviluppare capacità vescicali enorme, non rilascia lo sfintere, quindi comparano le infezioni di olevi urinarie, l'incontinenza, possibilità di reflussi vescico-ereterali, cioè patologie che interessano l'alto tratto urinario. Quindi, nell'enuresi non monosintomatica, che naturalmente è un po' più complessa, e che percentualmente rappresenta circa ormai il 40% delle forme di enuresi notturna, quindi quando un bambino si presenta con il letto bagnato alla notte, ma sul raccordo anamnestico che deve essere accurato e puntiglioso, si viene a capire che durante il giorno, appunto, questo bambino ha frequenza, urgenza, incontinenza urinaria d'urgenza, beh, bisogna agire sui due fronti per ottenere dei risultati. E bisogna partire, come dicevo, da un'accurata anamnesi, da un accurato esame fisico-obiettivo per andare ad escludere delle patologie organiche di cui abbiamo parlato prima, e poi iniziare la procedura diagnostica, appunto, che si deve avvalere inizialmente di procedure non invasive, quindi significa dall'esamorino-rinocultura, da un'ecografia dell'apparato urinario. Quindi non bastano i sintomi a dire incontinenza urinaria o enuresi notturna uguale patologia. L'anamnesi e gli strumenti, appunto, di indagine, appunto, così non invasive ci aiutano a differenziare queste due classi, ma vanno approfondite. Certo. Se si tratta solo e solamente, appunto, di una enuresi notturna monosintomatica in cui il sintomo predominante è la pipì a letto la notte, beh, allora quel bambino sappiamo che ha fondamentalmente tre problemi che si embrigano uno nell'altro. Una capacità vescicale ridotta per l'età, non anatomicamente ma funzionalmente, una vescica che non si lascia distendere per accogliere un adeguato volume di urine per l'età proprio perché non si è completato questo processo di maturazione. L'altra acquisizione che ha cambiato poi la storia e che grazie a questa ci fa ottenere dei ottimi risultati è l'acquisizione che l'ormone antidiuretico, quell'ormone che nel nostro organismo durante la notte e durante il giorno regola la produzione di urina da parti dei reni, nei bambini con enuresi notturna viene prodotta in quantità insufficiente rispetto al suo coetaneo normale, per cui quel bambino con ridotta produzione di armoni antidiuretico produce urina come se fosse giorno in un contenitore che è piccolo. Il terzo fattore che si embriaga con gli altri due naturalmente è il livello del sonno, un sonno profondo, ma non basta un sonno profondo da solo a produrre l'enuresi. Tutto questo può poggiare su un terreno genetico, nell'anamnesi viene chiesto con un po' di barazzo da parte dei genitori che si supera subito, quando eravate piccoli, ecco perché poi da qui nasce l'errore, vabbè ma io sono guarita, signora quando è guarita? Ma avevo 15 anni, guardi che suo figlio può farcela molto prima. Nell'enuresi invece notturna non monosintomatica, come dicevo, bisogna trattare assolutamente assieme all'enuresi notturna, cioè i presidi farmacologici dell'enuresi notturna, anche i disturbi minzionali diurni. Abbiamo un minuto per la terapia. La terapia sinteticamente è proprio questa. Ha curato anamnesi, esame fisico altrettanto capillare per poter discriminare dei casi che possono diventare neurologici. Una volta stabilito questo, se si tratta di enuresi monosintomatica, il trattamento attuale è quello di iniziare, dopo aver fatto compilare il diario notti asciutti e notti bagnati per una settimana, capire qual è l'assetto basale, partiamo da quanti notti bagnate la settimana. Se sono superiore a almeno una notte alla settimana, iniziamo un trattamento. Il trattamento con l'ormone antidiuretico, una compressina, oro dispersibile, da assumere la sera immediatamente prima di andare a letto e dopo aver urinato. Non basta solo il farmaco, bisogna che questo bambino sia educato, curato appunto e corretto apporto di liquidi nelle ore serali, la sua idratazione, le sue abitudini minzionali durante il giorno, il bambino deve vuotare ad intervalli regolari in maniera completa, con una corretta postura minzionale, deve vuotare l'intestino perché l'intestino partecipa attivamente nel processo nuretico. Se abbiamo un ampolla occupata da fesci, riduce la capacità vescicale e quel bambino ha una scarsa capacità vescicale. Certo, perché preme. Quindi una volta stabilito tutto questo, questo bambino inizia il suo percorso e con controlli periodici vediamo come risponde a questo trattamento e solitamente con questo tipo di terapia nella enuresi notturna monosintomatica otteniamo oltre l'87-88% di risultati in un periodo che oscilla da 6-8-10 mesi. Quindi direi che i risultati, ecco perché bisogna incoraggiare genitori anche a qualche pediatra reticente ad affrontare questa cosa. Questo risultato in termini di percentuale molto elevata certamente è fonte di incoraggiamento per la risoluzione del problema e fonte quindi di incoraggiamento anche a denunciare il problema ad andare dallo specialista. Grazie al dottor Creti. Grazie a voi. E grazie a voi amici telespettatori per averci seguito anche oggi. Grazie a voi. 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 Grazie a voi.